...e le ferroviarie. Attenzione, per viaggiare su tutti i treni è obbligatorio indossare la mascherina B tipo S22. Attenzione, è vietato attraversare la linea gialla in attesa dei treni. Si informano i viaggiatori che in occasione delle elezioni politiche di domenica 25 settembre con Iva 22 è possibile usufruire delle particolari aggiorazioni dedicate a chi raggiunge le località di volo e il treno. Maggiori dettagli sui siti e sui canali informativi della imprese ferroviarie. Si informano i viaggiatori che in occasione delle elezioni politiche di domenica 25 settembre con Iva 22 è possibile usufruire delle particolari aggiorazioni dedicate a chi raggiunge le località di volo e il treno. Il treno regionale 53 e 68 di Prenitalia, proveniente da Catania centrale e livello a Messina centrale delle ore 17 e 58. Il treno regionale 53 e in attesa dei treni. Il treno regionale 53 e in attesa dei treni. Il treno regionale 54 e in attesa dei treni. Il treno diretta dal treno 근 terzo legato ad un treno Harsham. Il treno regionale 44 e in attesa dei treni. Tutti in attesa dei treni. Devono parte il treno regionale 500 e Belf Christina. Adunetelo dal trenore 55 e al monstrosi. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.